Poco più di 4.000 euro, frutto della solidarietà e della bellezza, quella di splendide modelle salentine pettinate dagli hair stylist aderenti al centro salentino acconciatori, protagonisti di un progetto di beneficenza legato alla realizzazione di un calendario la cui vendita ha permesso di raccogliere fondi da devolvere all'associazione per un sorriso in più, associazione genitori onco-ematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce. Questo è il secondo anno che noi facciamo questa iniziativa, questo intervento. Prima anno abbiamo raccolto quasi 2.000 euro, quest'anno abbiamo raddoppiato la cifra e penso che l'anno prossimo dobbiamo triplicare. I soldi sono stati già donati, 4.025 euro per la seconda edizione, un risultato direi eccezionale perché abbiamo raddoppiato gli sforzi rispetto alla prima edizione in cui le copie erano soltanto 500 e la somma raccolta la metà. La cerimonia si è tenuta nel corso della manifestazione conclusiva dell'anno accademico del Centro Salentino Acconciatori alla presenza della testimonial dell'iniziativa Teresa Vacca, splendida modella di 18 anni di Massafra affetta da sclerosi multipla. Con questo non mi sono mai buttata giù, ho cercato sempre di continuare a realizzare i miei sogni e in questo senso quindi mi sentivo coinvolta e mi piacerebbe tanto aiutare le altre e quello che sto facendo.